In attesa di annunci ufficiali per quanto riguarda i nuovi innesti, il mercato dell'Avellino si concentrerà a breve anche sulle uscite fondamentali per sfoltire la rosa e permettere l'inserimento giusto ai nuovi arrivati. La società bianco-verde ha chiuso a quanto pare diversi accordi con società DB e Lega Pro per piazzare i suoi giocatori. Infatti, partendo dalla difesa, andranno a giocare in Puglia, ovvero al bisceglie neopromosso Diallo e Giron. Il primo in prestito, il secondo invece a titolo definitivo. Per quanto riguarda il centrocampo, Paghera non fa parte dei progetti dell'Avellino. Su di lui ci sono forti Entella e Salernitana e il giocatore, insieme alla gente, sceglieranno la soluzione più gradita. All'Entella andrà certamente Mokuru, l'attaccante belga già all'accordo con i Liguri che ne acquisiranno le prestazioni. A Reggio Calabria, insieme a Solerio, sbarcherà anche Sumare. Per il classe 1996 si profila un altro prestito dopo non essere riuscito a lasciare il segno, nemmeno nella stagione passata, nonostante il costante impiego da Mezzala con Toscano. Non si muoverà ad Avellino Gigi Castaldo. Il giocatore vuole fortemente restare in bianco-verde e la sua volontà prevale su ogni tipo di discorso che il procuratore aveva intavolato. L'Avellino riparte dal suo 10.